Bene amici e amiche casalinghe di Voghera, c'era tanta curiosità attorno a questo nuovo Ecovacs D-Bot X2 Omni perché è uno dei pochissimi robot con una pianta rettangolare. Quali sono i pro e i contro in linea teorica? Allora, i pro che la spazzola qua sotto può essere più larga perché può essere oltre la larghezza e l'interasse delle ruote visto che la forma non è circolare. Altro pro che questa spazzola laterale viene messa in un punto che è più periferico rispetto a un robot con pianta circolare il che dovrebbe pulire meglio gli angoli. Quali sono i contro? Beh, va da sé che proprio negli angoli lui non riesca a ruotare facilmente perché ovviamente va a prendere i muri e quindi ci vuole un software che gli consenta di fare un movimento magari così, tornare indietro, spostarsi, insomma un pochino più complicato e ce l'avrà, lo vedremo e poi l'altro contro è quello che lui si tende a incastrare un po' di più negli angoli stretti perché ovviamente un robot tondo riesce a ruotare senza sbattere nessuna parte, lui no. Il vantaggio però è che è stata eliminata la torretta del LiDAR, quindi lui è un po' più basso degli altri robot 9,5 cm per poter andare sotto ai mobili magari più bassi, non bassissimi perché 9,5 cm non sono poi pochissimi. Il LiDAR è stato spostato qua lateralmente, pro e contro? Beh, prova da sé, non abbiamo la torretta, il contro è che non riesce a coprire 360 gradi ma ovviamente il LiDAR fa un angolo di questo tipo. Comunque telecamera per il riconoscimento degli oggetti e invece, grande pro, la stazione di scarica della polvere, di carica dell'acqua pulita, di scarica dell'acqua sporca, abbastanza compatta, nonostante i serbatoi siano decisamente grandi. Non c'è la possibilità di avere il sapone dosato automaticamente, basta mettere un sapone più schiumoso qua nell'acqua pulita ed è esattamente la stessa cosa. lavaggio dei mocetti qua sotto con acqua a 55 gradi in modo che i moci si puliscono meglio anche se vengono intaccati da dei grassi e loro non si possono staccare automaticamente ma hanno un sistema di sollevamento di 15 mm per andare sui tappeti, ma adesso vediamo come va. L'app è la solita, c'è qualche funzione in più, qua la parte gestione video perché lui può fare anche da sorveglianza ma poi ve lo racconto, qui c'è la mappa, possibilità di memorizzare più mappe multipiano, di modificarla, ma il primo punto di domanda. Come vedete non ha riconosciuto stanze, il bianco è il percorso che il robot ha fatto per aspirare e lavare casa dove è solamente con il colore di sfondo è perché non è passato. Ma adesso vi faccio vedere una cosa, per esempio qua dove è tutto rosa ma non è passato perché non c'è la traccia bianca c'è un bagno che è stato l'unico robot a non riconoscere. Praticamente la pianta è messa così, questa è questa parete, qui c'è la porta a questo specie di disimpegno e poi qua c'è porta del bagno e bagnetto, quello dove testo sempre briciole e tra un po' butterò per terra robe schifose. Qua altra porta e qua si torna nel living, qua c'è una scala a chiocciola stondata, quindi un appartamento un po' complicato ma ripeto è stato l'unico robot che non mi ha riconosciuto il fatto che qua c'è una stanza anche se lui non c'è passato, segno che questo LiDAR magari ha qualche problemino proprio di riconoscimento, ovviamente io poi la mappa la posso modificare, posso andare a dividerla per ricrearmi quella stanza e vi faccio vedere l'altro problemino, allora più o meno diciamo che è qua uno muro, ok lo divido, l'altro muro è qua e l'altro muro è qua, quindi se io seleziono quest'area che dovrei dividere in due posso tranquillamente andare a girare, a zoomare la mappa, faccio così vediamo se riesco a spostare, si faccio così, ecco in teoria una parete è più o meno lì, guardate se gli do l'ok cosa succede? Non me la divide, aree non ancora divise completamente, ma cosa vuol dire? Insomma ci ho perso la testa, ci ho perso dei giorni ma non sono riuscito a ricreare quella stanza quindi mi sono dovuto beccare e cuccare la mappa così come l'ha creata, adesso vado a riunire queste due stanze ma in questo caso non ho possibilità di andare a dirgli, lava solamente quella stanza ovviamente c'è tra l'altro io in rete ho già guardato altre recensioni di questo robot e guardando le mappe sugli screenshot o sui video che ho visto nessuna è così precisa come quella di altri robot anche se devo dire la verità nessuno ha lamentato questo problema, però sapete io vi segnalo esattamente le cose come stanno ma possibilità di attivare la pulizia con l'intelligenza artificiale grazie al riconoscimento dei materiali, gli abbiamo detto noi di che materiali sono fatti i pavimenti eccetera eccetera eccetera, lui fa una pulizia intelligente e inizia con il lavaggio delle basi. Ovviamente si può far partire anche con gli assistenti vocali, Google, Alex e anche il suo ICO che io non uso mai perché impararne un terzo mi sembra abbastanza inutile anche se ha tante funzionalità se si utilizza il suo proprietario, ora si orienta perché ovviamente avendo la mappa multipiano lui si può spostare tra un piano e l'altro e come vedete l'altezza ridotta fa sì che vada sotto al mio divano. Una volta riconosciuto la mappa parte con la pulizia, guardate però come si comporta negli angoli era quello che temevo, è sempre un po' indeciso e quando gira lascia veramente un'area esagerata scoperta sia un po' dall'aspirazione sia dal lavaggio, guardate vedete il segno del bagnato cioè ha lasciato tutta quest'area scoperta, un po' troppa. Altra cosa qua sotto lui non sta toccando lo zoccolino, vedete? Ha tranquillamente dell'aria libera lì sopra, un mezzo centimetro eppure a volte procede veramente molto lentamente in qualche angolo. C'è da dire che qua avendogli attivato l'intelligenza artificiale il mio tappeto forse lui lo legge come c'è un grande casino per terra e quindi rallenta tanto. Ed ecco l'altro pregio di questa forma, il fatto di andare con la spazzonia laterale molto vicino al perimetro. Ecco questa è una cosa sì che mi è piaciuta particolarmente. Quando incontra un ostacolo beh devo dire che lo bypassa in maniera abbastanza intelligente. Vedete qua come sta ruotando attorno alla gamba della mia sedia. Molto bene che quando torno alla stazione dopo la pulizia sollevi i moci. Pur non avendo le stanze gli posso sempre dire di andare a lavare un determinato punto o una determinata area. In questo caso la faccio coincidere con il bagno. Si può definire la potenza di aspirazione. Adesso la lascio a metà. Tra l'altro sui tappeti aumenta automaticamente. Poi ve lo farò sentire. Qua la quantità di acqua che si può anche settare stanza per stanza avendocele e il numero di volte in cui passa. Anche lo spregamento profondo. Lui praticamente fa un percorso a esse per lavare di più. Sta entrando in bagno. Si apropinqua. Pensa al tappeto. Gli è stata la larga non so perché. Boh vedete anche lì la parte bagnata e la parte asciutta. Ha fatto una sorta di curva larga. Sotto al water ci passa abbastanza tranquillamente. Passato sullo zucchero velo che ha aspirato tranquillamente senza lasciare residui. Guardate zucchero velo direi perfetto. Secondo passaggio sul tappeto. Aumenta di brutto la potenza di aspirazione. I mochi li tira su ma come vedete sfregano sul tappeto nonostante il mio sia pelo corto perché è un centimetro e mezzo poi non è tantissimo ma comunque stanno fermi. Al massimo inumidiranno un po' e le briciole le aspirate tutte perché la potenza massima di 8000 PA è veramente veramente elevatissima. E poi devo dire che non è un robot rumoroso. Molto bene ma quell'angolo là sulla destra non gli piace tanto. Ripassa di qua dove era passato prima. Si rigira e voilà. Adesso le briciole le ha aspirate totalmente senza sbattacchiarle a destra e a sinistra. Sul lavaggio. Aspirazioni. Insomma sulla pulizia veramente voto molto molto alto. Ripassa sul tappeto. Questa volta ci è passato con i moci abbassati quindi ha bagnato un po' il perimetro nulla di drammatico. Ecco forse mi piacerebbe avesse un software più intelligente per capire che se ha sentito un tappeto e tra l'altro l'ha anche mappato. Beh l'algoritmo gli dovrebbe dire anche più o meno il perimetro qual è quindi stagli magari un po' più alla larga. Ovviamente anche il ritorno alla base è a moci sollevati. Ecco lo svuotamento e questo è il lavaggio dei pannetti. Devo dire silenzioso ovviamente non silenziosissimo ma tra i più silenziosi. Ma ora voglio vedere come se la cava con il riconoscimento degli oggetti. Le ciabatte mi sembra che le abbia riconosciute bene. Non lascia troppo spazio attorno all'oggetto che riconosce e vediamo come se la cava invece con il cavo che è sempre abbastanza challenging per i robot. Sfiorato con i moci dietro tende a prenderlo dentro. Ho paura che non l'abbia riconosciuto benissimo. Le ciabatte sì e ci gira intorno. Tra l'altro quantità di acqua settata al minimo sui parquet direi che è la quantità giusta. Attenzione vicino al cavo sì sì no attenzione l'ha riconosciuto e si è ritratto in tempo. Altro test sì sì rischia rischia ma rischia ma evita. Rumorosità ad aspirazione massima quella potentissima anche qua sì ok rumoroso ma non impossibile da sopportare. Mentre in silenzioso sentite veramente poco 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 fastidioso. L'applicazione in ogni momento vi dice cosa sta facendo il robot ma adesso vi faccio vedere la parte relativa ai video. Ci vuole una password per entrare per privacy ci sta e la fotocamera devo dire ha un'ottima qualità video. La cosa bella è che gli si può dire di andare in un punto determinato. Si sta lavando ovviamente i panni quindi non lo può fare. Gli si può chiedere di fare una perlustrazione razionale nel senso che lui farà un giro di tutta casa per far vedere cosa succede e si può anche chiamare il robot ovvero parlare con lui. C'è la possibilità di avere l'HDR e la qualità video tutto sommato non è assolutamente male. Ovviamente si possono anche registrare delle clip. Appena detto che sta avviando l'asciugatura ad aria calda così da asciugare i mochi e non far cattivi odori. Le funzioni della stazione si può anche stoppare manualmente l'asciugatura ripulire le basi lavaggio oppure svuotare la polvere. In personalizzata si può andare a settare dei programmi appunto ad hoc con anche una programmazione settimanale, oraria eccetera eccetera eccetera. Le impostazioni della stazione quindi lo svuotamento se vuole essere automatico, intelligente, l'intervallo della pulizia dei mocetti ogni 10, 15, 25 minuti. Insomma state vedendo un po' tutte le opzioni che ci sono e sono veramente tantissime. Qua in altre impostazioni vedete anche lo stato di manutenzione dei vari componenti e accessori, la pulizia intelligente con la possibilità di riprendere o meno quando finisce la batteria eccetera eccetera eccetera. La cosa interessante è che nella base, qua tra l'altro c'è la possibilità di dirgli che abbiamo un animale domestico quindi lui starà più attento al riconoscimento di peli ed escrementi, viene inserita l'acqua nel robot in modo che quando è in giro lava sempre con acqua fresca che bagna i mochi. Autonomia, la batteria se la utilizzate con una potenza di aspirazione media copre anche 150-180 metri quadrati, ovviamente aspirazione massima si ferma a 100 perché veramente è tanto tanto potente. L'acqua ha fatto 4 lavaggi del mio living che è attorno ai 80 metri quadrati, i cui 50-60 lavabili, quindi direi molto ben l'autonomia anche da quel punto di vista. Il prezzo è elevato, è da top di gamma, 1399 euro. E se sulla pulizia non si discute, avete visto quanto aspira con potenza, con prepotenza e quanto lavi bene, ho qualche dubbio sulla forma perché non gli consente di andare bene negli angoli. E ve l'ho fatto vedere, adesso sì ok ti lascio giù perché vuoi essere lasciato in pace. giustamente la forma rotonda secondo me è ancora la migliore per questo genere di robot. Non ho visto in questa forma quadrata, nonostante ok i vantaggi della spazzola laterale, della spazzola più lunga, un software capace di mettere una pezza ai contro che il rettangolo gli dà, soprattutto nel lavaggio degli angoli. Anche perché i mochi sono fissi, non vengono né sganciati nella base quando aspira e nemmeno traslati per andare a lavare molto bene anche il perimetro delle stanze. Secondo me può aver senso per chi ha dei locali ampi con pochi magari angoli e ha uno sporco che ha bisogno di un lavaggio profondo magari con dell'acqua calda perché su quello è imbattibile. Spero in un aggiornamento software che migliori la mappatura che è un po' il punto debole degli Ecovacs in generale, anche se questo l'ho trovato molto migliorato nella navigazione, nel riconoscimento degli ostacoli e soprattutto magari un software che gli faccia capire che quando c'è un angolo lui può tornare indietro, fare retromarcia, magari lavare anche l'angolo e poi ripartire per andare a coprire bene anche l'angolino che poi fino all'angolo è impossibile non avendo il braccio estensibile, però che non lasci una parte scoperta così ampia. Su tutto un buon robot con i suoi pro e i suoi contro. Un saluto da Andrea Galeazzi, punto, anzi, casa lì che dico che era 4.0, ciao!